è arrivata al teatro Bibiena la Crystal Music da brani di dimensione più rock ad altri che rimandano maggiormente la tradizione classica e che in alcuni casi propongono melodie quasi fiabesche per poi tornare all'energia della musica elettronica il tutto intorno al suono principe del pianoforte di Filippo Lui sono sensazioni dolci e forti al tempo stesso quelle trasmesse dal concerto The Crystal Music che ieri sera al teatro Bibiena ha visto protagonista il pianista e compositore Filippo Lui insieme ad un gruppo perfettamente integrato composto da 14 elementi tra musicisti e voce e così violini, violoncelli e contrabbasso si fondono col suono potente della batteria e delle chitarre elettriche dando vita a una musica che è pura energia ed emozione e in cui le note diventano lo strumento per narrare o lasciare immaginare a chi ascolta atmosfere leggendari un romanzo fatto di suoni e quello creato da Filippo Lui attraverso il suo The Crystal Music una musica eclettica ma che riesce sempre a trasmettere forti emozioni di certo una scommessa riuscita per il giovane pianista Mantovano una delle tante del resto già vinte in una carriera che l'ho già visto riscuotere successi tanto in Italia quanto all'estero il suo The Crystal Music che in teatro ieri sera c'è chi ha definito come la musica del ventunesimo secolo è un autentico percorso ricco di sfaccettature che trasportano l'ascoltatore nei mondi e nell'atmosfera che vorrebbe vivere e questa del resto dovrebbe essere la vera più autentica missione della musica come ci hanno insegnato i più grandi compositori di ieri e di oggi e sia i vigili del fuoco